La fashion designer che mi ha ispirato di più è sicuramente Coco Chanel. Una donna d'affari, una donna imprenditrice. Ha costato stile e versatilità, non è una cosa. Ha saputo gestire i suoi affari in modo eccellente. Coco Chanel ha posto le tasche nei vestiti delle donne e ha liberato la donna del suo tempo dalla costrizione del corsetto. Lei stessa amava vestirsi in questo modo e quindi è stata una svolta non solo nel mondo della moda ma anche per quanto riguarda proprio l'emancipazione della donna stessa. Se fosse qua adesso, Coco Chanel sicuramente spiccherebbe tra gli altri. Creerebbe qualcosa di originale all'avanguardia. Veloce e imparziale come la moda e che dia voce alla creatività femminile.